Il volto che vedete alle mie spalle apre la pagina sportiva e anche una breve riflessione. Gianmarco Pozzecco, la mosca atomica, come la chiamavamo oltre vent'anni fa ai tempi della stella bianco-rossa, è il nuovo coach della Nazionale Azzurra. Per chi, come noi di Varese, lo conosce bene, lo apprezza, gli vuole bene, come lui vuole bene a Varese, sorge spontaneo augurargli un ottimo cammino, grandi performance e appunto una resa da campione. L'augurio però si estende anche al campione che Gianmarco deve dimostrare di essere dentro di sé, perché guidare il team nazionale, guidare le casacche azzure, significa anche dimostrarsi all'altezza dal punto di vista dell'esempio, del modello che tanti ragazzi vorranno o sceglieranno di emulare. Allora speriamo davvero che Pozzecco si dimostri il grande professionista che è stato e che sa essere e che recentemente a Milano ha ulteriormente dimostrato nelle vesti di assistente di coach Messina, ma anche che possa evitare in futuro le intemperanze, i colpi di testa che abbiamo visto, anche quando era sulla panchina di Varese e che certo non farebbero onore alle grandi aspettative che giustamente gli vengono riservate. Quindi in bocca al lupo, al Pozz.